buongiorno ragazzi buona domenica vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina qui l'è tutto gratis di là avete eh il code per entrare nella chart degli esonerati che abbiamo deciso per un periodo molto breve di fare entrare tutti quelli che vogliono entrare quindi approfittatene e poi dopo io e 7up abbiamo in mente una cosa ehm bella partita ieri bellissima partita eh l'Inter il primo tempo Izaghi a livello tattico il primo tempo ha messo Tiago Motta alla lavagna perché lo va a prendere alto non gli dà sbocchi non lo fa palleggiare perché il Bologna è una squadra che gioca sempre che costruisce sempre da dietro rischia qualcosina ha il coraggio di far giocare Bissec che ripeto Bissec io non cambio idea per ora Bissec lo vedo benissimo da esterno e deve scavallare deve scavallare con la palla andare sui calci piazzati con un braccetto dietro che gli copre le spalle infatti Bissec quando le ha offerte le migliori prestazioni quando ha giocato con Darmian facci caso e non lo è non lo è un caso devo riconoscere che il tedesco è migliorato anche nel posizionamento però all'ottantacinquesimo fa uno svarione dove ci è andata bene è anche vero che poi dopo inserire un giocatore giovane in una squadra che va come un orologio è molto più semplice quindi eh questo questo è il momento è il momento giusto era il momento giusto per inserirlo bravo in Zaghi Bissec che era il momento giusto per far giocare ancora Slani che a me è piaciuto anche ieri Cristian quindi tutto bene tutto a posto io sinceramente le parole di Barella non le dichiarazioni di Barella lo dico a differenza di tutti i complimenti bravo io non le ho capite ragazzi sarò fatto male io sarò non lo so ma io non ho capito cioè il timing e perché Barella va a dire quelle cose scatenando solo polemiche perché infatti stamattina i giornali ci hanno marciato sopra e soprattutto attenzione perché se dici che simuli poi dopo dai gli alibi agli arbitri per non fischiarti nulla quindi io sinceramente le parole di Barella non le ho capite non le avrei dette forse si è sentito attaccato e nessuno della società lo ha difeso io non lo so non sono lì dentro so solo che in questa società non parla nessuno perché l'unica l'unica cosa che mi viene da pensare che Barella si sia sentito attaccato a Genoa e che nessuno lo abbia difeso perché altrimenti non vedo altre spiegazioni non lo so un input del procuratore ma non penso il problema è che non deve parlare Barella devono parlare i dirigenti e qui non parla nessuno perché ragazzi non è tutto mulino bianco ora la palla entra va tutto bene ma bisogna pensare anche al futuro perché fra due mesi la stagione è finita questa sarà una stagione che verrà ricordata per tantissimi anni perché è una stagione spettacolare perché il campionato ormai parliamoci chiaro tranne catastrofi e vinto in Champions League abbiamo delle buone possibilità Simeone te l'ha già detto giocheremo alla morte ma lo sapevamo ciò non c'era bisogno e tu ce lo dicessi te quindi questa è una grandissima stagione soprattutto per la resa rapportata alla spesa resa rapportata alla spesa quindi io le parole di Barella sicuramente non le ho capite ma forse sono scaturite dal fatto che in società qui non parla mai nessuno Marotta League se l'Inter gli agliutini dell'Inter ha visto in settimana tutta la scaletta se l'Inter non avesse avuto aiutini ma ormai tutti possono dire quello che vogliono che all'Inter stanno tutti zitti questa questa è una è una strategia che alla fine ti penalizzerà tantissimo perché non esiste stare zitti non esiste davanti a certe cose gravi non puoi stare zitto ma non lo so chi decide queste cose all'Inter ma secondo me è una grande cazzata farsi a salire offendere da tutti e stare sempre zitti non ti porterà a nulla perché ricordatilo bene il triplete un morigno l'Inter lo fa anche perché viene messa a cuccia la stampa e tante e tanti voci maligne perché te non devi te non devi guardare solo quello che è in campo te devi gestire anche quello che è al di fuori anche quello che è al di fuori dal campo e la comunicazione è fondamentale e all'Inter non esiste comunicazione come non esiste levo il code come non esiste in una squadra un allenatore che quest'anno stanno facendo una stagione da dieci come non esiste non avere una proprietà una proprietà assente che non investe un euro ma soprattutto non esiste che quella specie di presidente che qualcuno lo chiama ancora presidente per i centosiedici anni dell'Inter non ha fatto nemmeno un post su Instagram nulla zero né un video messaggio registrato da Temptation Island che poi saremo andati a guardarcelo al Falò non ha fatto nulla e questa è una vergogna per una squadra per un allenatore per una dirigenza che stanno facendo un miracolo sportivo avere un presidente in questa maniera per come la vedo io e te lo dico fuori dai denti non ho problemi è una vergogna centosiedici anni dell'Inter quella specie di presidente non ha fatto nulla né un messaggio né nulla è talmente impegnato che non può mandare nemmeno un messaggio ti sembra strano vero per quello che poi riguarda il discorso dei trentacinquenni ne ragionavamo stamattina anche in chat con i trentacinquenni gli over trenta operazione Arnautovic io ero contrario dall'inizio quest'estate vi siete incazzati con me molti di voi perché criticavo l'operazione Arnautovic e perché non volevo e non rivolevo Lukaku ve lo ricordate ci sono i video l'operazione Arnautovic è vergognosa perché è costata circa tra ingaggio tre milioni e sette di ingaggio tra otto più due al Bologna hai dato Fabian al Bologna è un'operazione da più di venti milioni quindi questo per dire cosa ci sta di sbagliare qualche operazione per l'amor di Dio perché poi arriva ausilio e ti svolta la stagione Piero Ausilio portando di Turam a zero attenzione perché Turam ha svoltato la stagione secondo me Turam ha contribuito a svoltare la stagione insieme a Lautaro e all'allenatore soprattutto ma con gli over trenta non ti va sempre bene perché lo stesso Arnautovic che purtroppo si è rifatto male Sanchez Classen cioè non ti va sempre bene con i parametri zero non puoi più andare avanti così quello voglio far capire io a tanti interisti che il prossimo anno ci sono settanta partite facciamo conto che tu tenga questa rosa che metti dentro Taremi che a me non piace e Zelischi a livello di calciatori su Zelischi non si può dire nulla anche se negli ultimi due anni le prestazioni la qualità delle prestazioni è andato un po' in calo sarà demotivato lo stanno trattando male ha firmato con l'Inter se viene se viene da noi poi lo vedremo ma ma che ho questa rosa anche se lui ti dice ti fa la supercazzola pallo dei cinesi come alla finale dopo la finale di Champions League quando ti dice non ti preoccupare interista ripartiremo dai più forti e te ne vende cinque ma anche se rimangano tutti o questa rosa è prossimo anno cosa vogliamo fare ci sono dei giocatori che hanno trentacinque trentasei anni servono investimenti è questo che bisogna cominciare a pensare a metà marzo perché mancano due mesi alla fine della stagione perché te l'hanno già dimostrato hanno provato a smantellare l'Inter di Conte per tre anni ci siamo attaccati a una Coppa Italia e regalato uno sculetto al Milan perché a gennaio ti prendono Gosens invece di un attaccante quindi ragazzi è bello quello che è bello va riconosciuto vanno dato i meriti ma bisogna analizzare le cose perché se no se vogliamo fare i defensanti facciamolo pure perché la palla entra del resto non ce ne frega nulla ci sono delle cose vergognose come una specie di presidente che per i centosedici anni ad una squadra del genere che andrebbe presa allenatore squadra e dirigenti andrebbero presi andrebbero portati alle università come esempio e spiegato come hanno fatto a fare questo Milano allo sportivo con zero euro perché tanto i soldi che hai venduto non li hai rimessi tutti quindi parecchi sono andati a coprire i soldi di Onana sono serviti per gli interessi di Oc3 quindi anche lì poi no io tanti interessi quest'estate non li ho capiti mi hanno fatto incazzare cioè c'è un gioco c'è il miglior portiere della c'è non me ne frega una sega di quello e fa Onana al Manchester io ti parlo di Onana al miglior portiere della Champions dopo Magnan miglior portiere della Serie A un ragazzo che viene messo sul mercato che viene venduto perché non c'è un euro in lacrime in lacrime all'aeroporto che dice agli interessi un giorno ci rivedremo e qualche interessi ha avuto il coraggio perché lui è andato depresso è andato depresso lì a Manchester Onana è un giocatore molto umorale c'è stato qualche interessi ha avuto il coraggio di godere per gli errori di Onana perché il cinese l'ha venduto e per dare ragione al cinese godevano degli errori di Onana un portiere è partito un calciatore che ha dato via non le lacrime agli occhi perché non voleva andare via ma di cosa stiamo ragionando ci stanno inquinando un po' tutto qui che dici ti sembra normale a te questa roba quest'estate però quando eravate quando eravamo quasi tutti incazzati non se lo ricorda nessuno che che non si riusciva a prendere un giocatore poi dopo meno male è arrivato Pavard è arrivato Frattesi e tutto quello che ti pare non è tutto mulino bianco perché il futuro è alle porte mancano due mesi e ripeto io sono il primo ad aver criticato ad aver criticato tanto i zaghi l'anno scorso non me ne frega se sono anche quegli altri lo aveva criticato perché c'erano dodici sconfitte io parlo per me io ho criticato tanto i zaghi ma quest'anno io ho riconosciuto ho riconosciuto che ha avuto una crescita a livello di personalità e tattica devastante questi giocatori l'Inter gioca sempre con 3 4 over 30 titolari cioè ma cosa gli vuoi dire a questi ragazzi cosa gli vuoi dire a questa squadra una squadra che sta facendo divertire che sta facendo divertire mezza Europa guardarla giocare a pallone ma di cosa stiamo ragionando quindi ormai sta diventando come mettere la gravata un maiale siamo a posto da una parte siamo belli però da quell'altra ragazzi noi ci siamo e bisogna migliorare anche da quell'altra perché quando il livello dovrà salire perché dovrà salire ancora quando dovremmo far alzare il livello innanzitutto per rimanere a questi livelli servono investimenti altrimenti muori ma quando dovremmo fare ancora uno step se non ci saremmo messi a posto da quell'altro lato non ce la faremo a fare un altro step a parte ripetere una stagione io sì cioè spese vendite ricavi e soldi spesi cioè ripetere una stagione io sì è impossibile secondo me è impossibile perché io non me lo sarei mai aspettato ma anche tanti di voi non se lo sarebbero mai aspettato quindi per quelli che guardano tutto il mulino bianco te ricordati che barella non lo so perché dice quelle cose ma avrebbero dovuto difenderlo magari dagli attacchi qualcuno in dirigenza e ricordati che hai un presidente che è sparito da un anno che non mette un euro che vuole fare debito paga debito che per i centosedici anni dell'inter non manda nemmeno un messaggio ricordiamoci questo ciao l'inter